C'è Grabbi sul pallone assieme a Moretti 45esimo minuto, si allontana anche Moretti e Grabbi ce l'ha nei piedi la soluzione da fermo parte il calcio di punizione e qui c'è il gol che è una splendida esecuzione esattamente nelle corde di Grabbi Sì, sì, ce l'avevi era da lunghissima agitata però come hai detto bene tu lui ha effettivamente questo tipo di potenzialità è stato molto bravo un po' sorpreso Pignoli però ha calciato benissimo Ciccio Grabbi Rincorsa lunghissima di Grabbi per venire ad abbracciare Attilio Perotti è venuto l'abbracciato con trasporto e poi si è girato verso la parte di tribuna rosso-blu dei tifosi del Genoa e ha detto adesso andiamo, andiamo avanti così È davvero una bella esecuzione di Grabbi